Questa ora si insedia qui a Taranto, un territorio abbastanza complesso, una provincia articolata in 29 municipalità. Assolutamente un territorio stimolante, complesso, variegato perché è una provincia grande, con peculiarità diverse a seconda delle zone, che imparerò a conoscere e quello che posso assolutamente assicurare è che ci sarà tutto il mio impegno, tutta la massima disponibilità anche a confrontarmi con le istanze che provengono dalla comunità tarantina. Dal punto di vista dell'assetto del personale, che situazione hai trovato in questura? Sicuramente è una questura molto ben organizzata, con personale motivato, quindi ci sono tutte le premesse per fare bene. Ringrazio appunto chi mi ha preceduto, il questore Gambino e tutti i colleghi che sono stati qui negli ultimi anni, perché quella che io eredito è una struttura che sarà sicuramente in grado di far fronte agli impegni istituzionali e non solo che fanno capo appunto alla Polizia di Stato e alla questura. Lei proviene da Cremona, dove è stato questore, ma prima ancora, primo questore di Monza e Brianza, ma lei è barlettano, quindi l'incarico tarantino le dà la possibilità di riaffacciarsi in Puglia. Assolutamente, anche questo è un aspetto, come dire, personale, che però non è secondario, diciamo, nel nostro lavoro. Ecco, poter lavorare nella mia regione di origine è sicuramente qualcosa che mi motiva parecchio, mi stimola parecchio. Spero di poter far bene. Torno a dire, oggi è il mio primo giorno qui di lavoro, ma credo ci siano tutte le premesse per poter continuare a fare bene nell'interesse della, ripeto, della comunità tarantina che siamo chiamati a servire e proteggere. Statistica 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 ... ... ... Grazie a tutti